Carro armato a ore 1, distanza 300 metri, bersaglio colpito! Carro armato a ore 1, distanza 300 metri, bersaglio colpito! Carro armato a ore 1, distanza 300 metri, bersaglio colpito! Carro armato a ore 1, distanza 300 metri, bersaglio colpito! Carro armato a ore 1, distanza 300 metri, bersaglio colpito! Grazie a tutti. Siamo arrivati. 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 Attenzione. Siamo arrivati. 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 arrivati. Siamo arrivati. arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. arrivati. Siamo arrivati. 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 ưởi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.